Se il canestro di Garrett nel 1993 grida ancora vendetta, qualche fischio di qualche arbitro in quella serie urla a tanti anni di distanza? Diciamo che a distanza di tanto tempo molte cose si possono anche svelare, uno dei motivi per cui chiaramente mi sono un po' distaccato è nato proprio da quell'aspetto lì, perché perdere una partita sul campo siamo tutti d'accordo, ma perderla in quel modo lì è abbastanza lasciare una mare in bocca, non indifferente per chi aveva investito tanto, aveva creato l'entusiasmo, ricordiamoci il palazzetto con tutte quelle migliaia di persone.